Grande successo per la serata delle fonti awards tenutasi lo scorso mercoledì 8 maggio a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo HR 4.0, il futuro del lavoro tra innovazione e capitale umano, moderato da Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 e di Le Fonti TV. La serata è proseguita con la cerimonia di assinuazione dei premi che aveva come focus il mondo delle risorse umane e del diritto del lavoro. Studio dell'anno Consulenza Diritto del Lavoro, andiamo a chiamare subito il vincitore di questo premio, Fava e Associati. Ecco qui, Fava e Associati per l'assistenza giuslavoristica nel day by day e nell'attività straordinaria di due diligence, per la pareristica e la consulenza stragiudiziale in materia di contrattualistica di lavoro e tra le altre nelle procedure disciplinare nei confronti del personale dirigenziale, sia in ambito societario che associativo. Complimenti anche a Fava e Associati per questo premio. Complimenti. Buona esperienza. Fava e Associati allo studio dell'anno Consulenza Diritto del Lavoro e le Fonti Awards 2019. Avvocato Fava, un commento a questa vittoria? Questa vittoria mi rende molto felice perché è da più di vent'anni che mi dedico con passione a questa materia, al diritto del lavoro, aziendale seguendo le imprese nella loro crescita, anche decrescita. Ho investito in una squadra che mi rende ancora più felice perché mi ha restituito gioia, qualità, competenze e altrettanta passione e quindi questo riconoscimento lo dedico sostanzialmente ai miei ragazzi e ragazzi che stanno crescendo meravigliosamente, che hanno fatto, dello studio, ormai sicuramente un punto di riferimento nel mercato del lavoro, nel mondo del lavoro, inteso come politica del lavoro. Nell'assistenza giuslavoristica che prestate quotidianamente alle imprese, quali sono le aree maggiore oggetto di consulenza da parte vostra e più in generale, quali sono secondo lei le necessità delle imprese italiane, tenuto conto anche dei cambiamenti legislativi in materia di diritto del lavoro dell'attuale governo? Partiamo da quest'ultima e rispondo subito dicendo che le maggiori esigenze delle imprese italiane, ma multinazionali, familiari, piccole, medie e grande, sono sicuramente quelle di cercare dei partner, dei partner qualificati che possono aiutarli ad avere maggiori certezze, a risolvere i problemi prima che diventino patologici, a poter avere un ottimo balance costi-profitto e quindi questo è molto importante perché la prima voce a bilancio di un'impresa è la voce del costo del lavoro e quindi laddove il costo del lavoro è meno pesante o più leggero o più flessibile, questo fa la differenza sulla competitività dell'impresa. Ecco perché oggi nei giusti lavoristi ci siamo trasformati in partner, in advisor aziendali, non siamo più i vecchi, tra virgolette, avvocati dai quali uno va quando ha la grana, la famosa grana, ho un problema, adesso vado all'avvocato così me la risolve, oggi no, l'attività in prevenzione è il migliore investimento da parte dell'imprenditore nei confronti dei propri professionisti, noi siamo professionisti da questo punto di vista e quindi aiutiamo chi si rivolge a noi a risolvere i problemi prima che diventino patologici, prima che siano irrisolvibili. Avvocato Fava, lei è stato eletto dal Parlamento nel corso della 17esima legislatura al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti come componente laico, quali sono le sue principali attività che svolge in tali vesti e quali modalità le affronta? Questo incarico è veramente gratificante perché arriva a completare un percorso professionale nato da praticante dove vedevo praticamente tutto, tutto quello che riguardava l'aspetto legale, giuridico e oggi chiudo, per modo di dire, perché ho ancora davanti un po' di anni, chiudo guardando soprattutto il profilo economico, il profilo della spesa pubblica. Abbiamo parlato prima delle imprese che devono e vogliono cercare di risparmiare e quindi trovando un ottimo balance costi benefici, ecco che in questo caso ho la possibilità di studiare, verificare e governare la spesa pubblica e quindi parliamo della cosiddetta spending review. Come membro del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, lei sa che la Corte dei Conti è l'organo istituzionale, un organo di Stato costituzionalmente previsto che ha due poteri importantissimi, un potere preventivo di controllo della legittimità degli atti del governo e successivo di controllo sulla congruità del bilancio di Stato. Ecco che in questo caso la Corte dei Conti ha facoltà di intervenire, di verificare l'equilibrio di bilancio, l'equilibrio della spesa pubblica e di intervenire di conseguenza. È un complemento giuridico, giuridico, legale, professionale, anche con un ottimo profilo costituzionale che sicuramente dà una visione molto più ampia di quella che può avere l'avvocato che svolge semplicemente o che si limita alla alla sua professione legale.